Musica Eeeh Beh a tutti ragazzi noi siamo l'i27i Io sono Isamon2700 Ed eccoci ragazzi in un nuovo video Su GTA Online Come sapete qualche giorno fa hanno aggiunto Le nuove rapine e noi ragazzi Le abbiamo completate tutte Eeeh Oggi vi porto il primo colpo Il primo atto Quindi mi racconto ragazzi Se vi piace questo tipo di video Spolliciate Perché se vedo che abbiamo raggiunto Abbastanza tanti like Porterò anche il secondo atto Cioè il secondo colpo Che è ancora più figo Come vi sarete di sicuro accorti Abbiamo ripreso giocare a GTA Questo è perché ovviamente Ultimamente stanno aggiungendo delle cose Abbastanza fighe Quindi abbiamo deciso tutti di riscaricarcelo E di giocarlo ovviamente insieme Siccome è un gioco che ci diverte Molto giocarlo insieme Quindi diciamo che le nuove rapine Sono state una piccola scusa Per riprendere in mano questo gioco Comunque restate sintonizzati sul canale Perché venerdì uscirà l'unboxing speciale Del pacco che mi hanno mandato Di World War 2 E ovviamente a Natale Come al solito faremo Credo lo speciale GTA sulla neve Come abbiamo fatto Anche l'anno scorso Comunque ragazzi Il video l'ho registrato insieme a Manzulino e a Pozua Boy La prima parte che vedete qua in sottofondo Mentre sto parlando L'ho messa perché in poche parole Mi sono dimenticato di registrare l'audio Quindi c'è solo praticamente la clip Un po' per farvela vedere Intanto che sto parlando Ve la sto mettendo proprio qua sotto Ragazzi ultima cosa Poi vi lascio al video Mi raccomando passate a vedere L'ultimo video che ho portato Sabato sul canale In cui parla di come ottenere Un'arma segreta sul GTA E ottenere 250.000 dollari bonus Che si possono fare tranquillamente In due minuti E niente ragazzi Vi lascio al video Non lo stiamo a po' Prego Appo Ti lasciamo con la cromata È in aria Guardate in aria Appo che si cataculta giù Appo che pure è caduto Sto per morire Appo Una volta Ma che cazzo Sta macchina vola Sì ma comunque Consiglio da Ivan che Mi sa che Questa qua È dietro Dove sono sentire Wow Bitch Che volo fatto Sì È poco meno di 2 mili Io Arca Non puoi mettere dietro Sto creando io Sto creando io Sto creando insieme Sto aprendo un volo ragazzi Pronti a volare Insieme a lui Che figata di house Ma se io premo lì Si attiva le nuote E' addirittura Che cazzo Saranno Noo La planina russa Noo 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 Non c'è più Per vedere l'elicotteri Ma va a fare con l'elicotteri Dove sono? Cazzo Che figata L'ho rimesso Madonna che figata Togliamo la base Volando Togliamo la base Togliamola Vai giù Se c'è in acqua Wow Che figata Ha fatto un trick Della madonna 360 Tanto prende il volo Sto punto volo fino a là Ma fa culo Allora da età macchina Sì Parcheggio Parcheggio Opla Macchina consegnata Manuel Oh Sono sempre il vostro pilota C Manuel Manuel La parte retro Quanto cazzo è lungo Sto coso Sperito Scusate Cazzo Sto molto bravo Sti Oh raga Non spingete Fate bella vita Le telecamere Basta li sparano Le telecamere Si rompono Si Adesso Non spingete Non spingete Chora Grazie a tutti 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 Fammi distruggere l'elicottero Fermo, stai fermo Non hai mister, non hai mister Fermo Via 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 ragazzi Via 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 Ecco perchè siamo contro la luce Isis! Alla voglia! Alla voglia! Come fate? Oh raga non ci vedete nessuno su 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 Oh la camp è aperta, oh mio dio Isis man! Isis man! Buongiorno ragazzi Siamo venuti a far esplodere tutta questa base Possiamo? Che capelli a forma di cappella Oh! Ma è un'altra base questa! Raga vaffaculo Vai vai giù Figa quante corazze hanno figli Oh ha potente Raga non mettetevi attaccati a me dietro perchè se devo scivolare all'indietro dopo non riesco più Eh appo Se devo scivolare all'indietro dopo non riesco a muoio Ecco tipo adesso Mi ricordo che da tutte le preparazioni che non sono avuto molto bene o no? Oh raga senti E infatti compresto a cappino che non ammazza manca se lo preghi Eh ma sono loro che sono stracorazzati vecchi Guardi col mitraglione faceva fatica a ucciderli Bello che loro agenti della CIA Nei siamo in track che entriamo così a caso Bello siamo Oh a metà di rango truffatore addio pure No 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 Che figata No, dai la la guardi d'Italia Che figata Ah poi riesci a coprirci? Ma guarda non c'è Rita il mio disino Che figata, possiamo controllare tutta la torretta Torita e bastardi Ma io dove, dove c'è la torretta? Non lo so, puoi cambiare torretta, che figata C'è loro che hanno seccato le difese e noi dopo di un tre Ma ne? Isi siamo entrati, ci vuoi che erano distrutti da dentro Eccolo, il nostro amico delle rapine Sono i russi Nooo Il computer, quello che è la base Oh Doveva uccidere Buod Andiamo via squadrisis Ciao ragazzi Perché ho tolto la maschera io? Questo non ho capito il bro Platino Ed eccoci ragazzi A fine video Se vi è piaciuto questo video E volete il prossimo colpo Mi raccomando spollicciate questo video Commentate Iscrivetevi E noi ragazzi ci vediamo A un prossimo video Bella Ciao 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 Grazie a tutti.